Il pirotecnico del Cavalier Gaetano Insogna e figli è a Taranto in via Regginelena 91, quasi ad angolo con via Mazzini, azienda leader del settore, nota per la sua professionalità e di numerosissimi attestati conseguiti in tanti anni di attività. Ho al mio fianco il titolare, appunto il Cavalier Gaetano Insogna, beh ci sono delle offerte sensazionali, scopriamole insieme. Quest'anno abbiamo delle offerte veramente strabitose, abbiamo tre batterie 100 colpi professionali che noi utilizziamo per i nostri spettacoli pirotecnici, tre batterie con doppia apertura, il costo di queste ognuna costa 180 euro l'una, tre pezzi 100 euro. Super offerta, tre pacchi di Magnum, 10 euro. Razzo Rocket professionale, 25 euro a solo 10 euro. Batteria 16 colpi, 25 euro in offerta a solo 10 euro al pezzo. Track italiano, marchiato C, in F2, in offerta da 3,50 euro a solo 2 euro. Bengala in F2 di 20 getti, alla confezione da 12 pezzi a solo 10 euro. Bengala scoppiettante, effetto strabitoso a pioggia, in offerta da 10 euro a solo 5 euro a confezione. Qualsiasi tipi di fontane che noi abbiamo in esposizione ci sono le offerte dal 50 al 60%, tutto questo che vedete ora in esposizione sono tutti quanti a confezione a 5 euro. Mini Thunder, materiale esplodente sotto i 10 decibel per salvaguardare i nostri animali, in offerta un pezzo 2 euro. 197 colpi, tubo largo, professionale, 380 euro, in offerta a solo 250. 197 colpi, tubo largo, bassa, semi ventaglio, effetti salici biangenti con punte rosse assortiti, con strazzatura finale al titanio, 360 euro, in offerta a solo 190. Per voi la batteria Silvi da 230 euro a solo i 90 euro, è una batteria marchiata CE, quindi vuol dire che è omologata, quindi al 1000 per 1000. Volevo specificare una cosa, venite da noi a acquistare perché non solo trovate persone autorizzate alla vendita, quindi competenti, ma persone qualificate perché noi maneggiamo materiale esplosivo durante tutto l'anno, quindi per le feste e per quant'altro. Quindi vi aspettiamo con il cuore, non solo per la vendita ma anche per accogliervi su tanta vasta gamma e scontistiche. Veniteci a trovare nella nostra azienda, azienda leader sul settore pirotecnico, che vi consigliamo di che troverete tutti i prodotti che voi volete per le vostre esigenze con il 50-60% di sconto. Un auguri a tutti quanti voi, auguri, buon anno! Il pirotecnico resterà aperto tutti i giorni fino al 31 dicembre. Nei giorni di zona rossa sarà possibile compilare l'autocertificazione utilizzando la seguente motivazione, acquisto giochi pirotecnici presso esercizi con codice ATECO numero 4765.